Non lo so Però la scimitarra non posso andare sempre di ignoranza con la scimitarra No infatti non farlo Puoi puoi No No ripeto l'ultima volta non avevi un incantismo che faceva da non d'acido Però non mi ricordo se era la vicina E poi non fai Eh Vai truzzalo Noll Ma è Ma è Raga mi sono già dimenticato come si fa a targhettare Scusate Eh ctrl click Scusa Se non funziona sulla mappa fai ctrl click sul nome della tua mappa Usa un spruzzo del liquido amniotico Ma dai Se parte anche un po' di placenta va bene uguale Eh dai Grazie Grazie L'avete l'ottere scatola L'avete l'ottere Sul critico parte il feto Cosa Non oso immaginare il fallimento critico Fambolo No se non funziona il ctrl click sulla mappa Fallo sul Fambolo sarà in cesareo Ah ok ce l'hai in target adesso Ok Ok proviamo Allora col poison spray Vai Sì Vai vai No è 10 Sì No Ehm Ho detto una cazzata Che cazzo è quel rumore No Sì ma chi è che c'è tipo il moto zappa acceso al canto al microfono Non capire E lo so sentito Tra aereo, motore e quant'altro ne abbiamo sentite tutte Mi ci manca Gli devo andare pure più vicina Gli devo andare pure più vicina Con la becarra accesa Sì 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 Quanta di portata? Ehm dieci Dieci piedi E sarebbe quanti quadrati? Due quadrati Due quadrati Te vicini troppo e non hai neanche a metà della salute Ehm se gli faccio il turn whip lo ricarico Eh le scariche elettriche Sì Hai un arco? Sì Torn whip c'è a 9 metri me pare Uh forse ce n'ho uno Se vuole essere elettricità di fa qualcosa però si può tentare Ho paura che lo ricarichi visto il fatto che ha la cosa elettrica Eh Ehm Una bobina tesla Ehm Ehm Eh? Puppa Meglio che no Ok andiamo non c'è nessuno nel governo, sono contenevoli vero? a parte il fatto che c'è lo sguardo così che ti guarda ti prego non farmi del male mentre io ti faccio a me ok io siccome sono stronzo al prossimo mio turno parto alla carica hai fatto l'entangle? si ok mi sembrava un'idea potrebbe essere si ok e devo fare ora effetto no che cazzo devo fare? me lo dimentico sempre perchè mi dimentico le cose credo che devo fare lui non te lo salvesse in teoria non sbaglio penso che volando non gliene freghi più di tanto master si cosa quindi? no non gliene frega più di niente ok me l'immaginavo però non è che posso fare niente ci suicida adesso non posso fare niente ma no non dire così se vuoi ti presto l'arco poi c'è proprio il tuo cavolo eh c'è rotta la corda più a quello che boh non lo so che zappa ormai lo dimentico lo scosso ormai ce l'ha inglobato nel ginocchio allora io per forza devo mettermi davanti a Tyrion giusto? non è che se Tyrion è basso riesco a sparargli si è scavato no come? allora facciamo così mi muovo di due e e e e e e vediamo un po' ma io direi di andare lì visto che è abbastanza pesantuccio visto che gli avete tirato anche le ciabatte ed è ancora solo ferito direi di andare di scorching grey vediamo un po' allora aspetta